Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova lezione con Andrea al Matematico. Dopo aver visto la classica divisione polinomiale, oggi vediamo la divisione con Ruffini. Se quindi partiamo dalla divisione polinomiale dove abbiamo 2x alla terza meno x alla seconda più 3x meno 1 e lo dividiamo tutto per x meno 2, se applichiamo il classico procedimento della divisione polinomiale praticamente quindi riscriviamo il dividendo ovvero 2x alla terza meno x più 3x meno 1 in maniera ordinata e completa e accanto scriviamo il divisore per effettuare con il classico procedimento della divisione polinomiale questa divisione dobbiamo prendere 2x alla terza che è il termine diciamo associato al grado maggiore cioè il primo termine avendolo ordinato diviso x e come quoziente otterremo 2x alla seconda. A questo punto prendiamo 2x alla seconda, lo moltiplichiamo per x e per meno 2, quindi 2x alla seconda per x fa 2x alla terza che poi riportiamo sotto le x alla terza con segno invertito quindi meno 2x alla terza e 2x alla seconda per meno 2 che farebbe meno 4x alla seconda che cambiato di segno e riportato sotto le x alla seconda andiamo a scrivere 4x alla seconda. Tiriamo una linea orizzontale andiamo a sommare verticalmente 2x alla terza meno 2x alla terza fa 0 quindi il primo termine deve sempre scomparire, meno x alla seconda più 4x alla seconda che fa più 3x alla seconda, abbasso il più 3x e abbasso il meno 1. Vedete che qua abbiamo ottenuto un polinomio di secondo grado che è di grado sicuramente maggiore o uguale rispetto al divisore e quindi posso continuare nel processo di divisione. Prendo quindi il primo termine tra x alla seconda e lo divido per il primo termine del divisore quindi per x ottenendo più 3x come risultato che sarà la seconda parte del quoziente complessivo della divisione. A questo punto questo più 3x lo moltiplico per x meno 2 quindi ottenendo 3x alla seconda meno 6x riportandolo cambiando di segno sotto il polinomio 3x alla seconda più 3x meno 1. Chiaramente sommo algebricamente le x alla seconda e le x quindi più 3x alla seconda meno 3x alla seconda fa 0 più 3x più 6x che fa più 9x e abbasso il meno 1. 9x meno 1 è ancora di grado 1 quindi di grado maggiore o uguale al grado del divisore cioè x meno 2. Prendo il 9x lo divido per la x ottenendo più 9 che è la terza parte di quoziente prendo il più 9 lo moltiplico per tutto x meno 2 ottenendo 9x meno 18 riportandolo invertito di segno sotto 9x meno 1 quindi scriverò meno 9x più 18. Più 9x meno 9x fa 0 meno 1 più 18 fa 17. A questo punto abbiamo ottenuto il quoziente della divisione che è x alla seconda più 3x più 9 e il resto della divisione. Chiaramente per confrontare se ho fatto giusti i calcoli dovrei fare x meno 2 che moltiplica il quoziente della divisione cioè 2x alla seconda più 3x più 9 tutto sommato a 17 e dovrei riottenere chiaramente il dividendo di partenza. Un altro modo più semplice per effettuare sempre questa divisione è il metodo di Ruffini. Ricordiamo che il metodo di Ruffini non è sempre applicabile ma è applicabile solamente quando il divisore presenta grado 1 in questo caso x meno 2 a grado 1 e quando il coefficiente della x è più 1 cioè quando non abbiamo scritto niente davanti alla x infatti è 1x meno 2. Quando è presente questa condizione sul divisore della divisione allora noi che cosa facciamo? Possiamo semplicemente giocare con i numeri. Quindi chiaramente dovremo preoccuparci inizialmente che il polinomio sia ordinato e completo come in questo caso. E riportiamo semplicemente quindi in maniera ordinata e completa tutti i coefficienti associati alla x. Quindi 2 per quanto riguarda l'x alla terza, meno 1 per quanto riguarda l'x alla seconda, più 3 per la x e meno 1. A questo punto costruisco questa sorta di tabella fatta da due linee verticali. Quindi all'interno delle linee verticali devono finire i coefficienti associati ad una x. All'esterno il termine noto. Ora tiro una barra orizzontale e diciamo sulla parte sinistra, sopra la barra orizzontale, devo mettere praticamente il termine noto del divisore cambiato di segno. Quindi il divisore è x meno 2, il termine noto del divisore è meno 2. Se gli cambio di segno ottengo 2. Con questo processo praticamente che cosa facciamo? Prendiamo il 2 che è il primo coefficiente, lo spostiamo sotto la linea orizzontale e quindi riscriviamo 2 in sostanza. Questo 2 lo moltiplico per questo 2, ovvero l'opposto di meno 2 e il risultato che trovo più 4 lo sposto a destra, sopra la linea, quindi sotto il meno 1, cioè sotto il secondo coefficiente. A questo punto sommo il meno 1 al più 4 ottenendo più 3. Questo 3 lo moltiplico sempre per 2, riportando il risultato ancora a destra, sopra la linea, 3 per 2 fa 6. Sommo il 3 al 6 ottenendo 9. Questo 9 lo moltiplico ancora per 2, lo sposto sotto il termine noto, quindi a destra della barra orizzontale, sopra la barra orizzontale, meno 1 più 18 fa 17. Vi faccio notare che sono partito da un polinomio di grado 3, ovvero 2x alla terza, meno x alla seconda, più 3x meno 1 e questi sono i coefficienti, quindi più 2, meno 1, più 3 e meno 1. Ho diviso questo polinomio di terzo grado per un polinomio di primo grado. Ora qua dentro, questo 2, 3 e 9, sono praticamente i coefficienti del quoziente, dove il quoziente avrà grado 2, perché dividendo un polinomio di terzo grado per un polinomio di primo grado ottengo un polinomio di secondo grado. Quindi il nostro quoziente sarà 2x alla seconda più 3x più 9, che è esattamente il quoziente che avevo trovato col classico procedimento della divisione polinomiale. A destra della barra compare il resto della divisione, cioè 17. Quindi il quoziente è 2x alla seconda più 3x meno 9, il resto è 17. Infatti se io prendo, ok, 17. Ora vediamo un altro esempio di divisione polinomiale. 4x alla quarta meno x alla seconda più 3x alla terza meno x più 1. Quindi prima di tutto devo fare tutto diviso x meno 1. Vedete che in questo caso è applicabile il procedimento di Ruffini perché il divisore presenta grado 1 e il coefficiente associato dalla x è 1 e quindi possiamo applicare il procedimento di Ruffini. In questo caso quindi dobbiamo preoccuparci inizialmente di riscrivere il polinomio di partenza, quindi il dividendo, in maniera ordinata e completa, quindi a partire dal grado maggiore fino ad arrivare al grado 0. Quindi 4x alla quarta, poi metterò più 3x alla terza, poi metto le x alla seconda con meno x alla seconda meno x più 1. Ora l'opposto del termine noto del divisore, dove il termine noto del divisore è meno 1 e il suo opposto è più 1, lo riporto quindi nella posizione stratesica all'interno della tabella, quindi a sinistra. A questo punto chiaramente il termine noto deve rimanere a destra della barra orizzontale. A questo punto abbasso il 4, quindi 4x1 fa 4 che lo riporto a destra sopra la barra orizzontale, 3 più 4 fa 7, 7 moltiplicato a 1 fa 7, lo riporto ancora a destra, meno 1 sommato a 7 fa 6, 6 moltiplicato a 1 fa 6, meno 1 sommato a 6 fa 5, 5 moltiplicato a 1 fa 5, 1 più 5 fa 6. Vedete che quindi abbiamo trovato questi sono i coefficienti del quoziente. Ricordiamo che siamo partiti da un quarto grado, quindi il quoziente avrà terzo grado perché con Ruffini divido sempre per un grado il polinomio di partenza. Quindi il quoziente sarà 4x alla terza più 7x alla seconda più 6x più 5 che sarà il quoziente della divisione e il resto sarà 6. Vi faccio notare una cosa molto interessante. Il polinomio che noi abbiamo diviso in questa divisione era 4x alla quarta meno x alla seconda più 3x alla terza meno x più 1 che abbiamo scritto quindi riordinato come 4x alla quarta più 3x alla terza meno x alla seconda meno x più 1. Questo sarebbe il nostro polinomio nell'incognita x. Ora se io vado a sostituire al posto della x il termine che è scritto praticamente qua dentro, cioè quello che abbiamo ottenuto praticamente cambiando di segno al termine noto. Se io vado a sostituire nel polinomio in x proprio questo 1, cioè questo numero qua che ho scritto in questa posizione, il risultato mi dovrà dare proprio il resto della divisione. Questo potrebbe essere una procedura veloce di controllo per vedere se la divisione è corretta. Infatti se al posto della x nel polinomio vado a sostituire questo numero 1 avrò 4 per 1 elevato alla quarta più 3 per x alla terza diventa per 1 alla terza meno x alla seconda diventa meno 1 alla seconda meno x diventa meno 1 e poi resto c'è la parte nota più 1. Se vado a sviluppare i conti 4 per 1 alla quarta fa 4 più 3 per 1 alla terza che fa più 3 meno 1 alla seconda che fa meno 1 meno 1 e più 1 li riporto e vedete che il risultato è 4 più 3 che fa 7. 7 meno 1 che fa 6 meno 1 che fa 5 più 1 che fa 6 che è proprio il resto della nostra divisione. Benissimo cari amici questa lezione è finita. Se la lezione vi è piaciuta lasciate un bel like e iscrivetevi al canale youtube di Andrea il matematico. Visitate inoltre la pagina facebook della matematica di Andrea il matematico con tanti quiz divertenti curiosità e altre informazioni e visitate il sito www.andrealmatematico.it nella sezione corsi per vedere il corso più adatto a te. Per adesso ci sono corsi di matematica di matematica finanziaria e di finanza ma sono in corso di elaborazione altri corsi come ad esempio statistica analisi matematica 2 e algebra lineare. Grazie per l'attenzione ci vediamo alla prossima puntata con Andrea il matematico.